L'appartamento si trova molto vicino al centro di Bologna, in via Nazario Sauro 5 ed è di circa 30-40 metri quadrati. E' un monolocale dove c'è una zona dove poter rilassarsi di giorno, di sera. Questa invece è la zona cucina dove ci sono due postazioni. Qua invece c'è il frigorifero, molto piccolo ma tenuto molto bene. Il riscaldamento è qui ed è centralizzato. Un piccolo lavello. Qua abbiamo una zona soggiorno, zona cucina dove ci si può fermare per un pranzo o una cena. Questo invece è il letto con sopra dei bellissimi quadri di Kandinsky e Picasso. Ecco qui. L'appartamento si trova fra l'altro al primo piano di un edificio storico. Questo è il bagno. Come si può vedere è tenuto molto bene. Molto ben curato. Nei dintorni tutto a portata di mano. Ci sono tabacchini, ci sono supermercati. Il centro di Bologna sta circa 5 minuti a piedi. A presto. A presto. A presto. Un canale. Vintro. Oordo. Anche da gusti. Queesta. ulse. arts. Minuto.